Da poco era uscito dall'ufficio postale in località Licinella quando è stato derubato nella pensione appena ritirata, giovedì mattina a Capaccio Pestum. L'uomo, 85enne, si era recato presso lo sportello più vicino alla sua abitazione per ritirare circa 700 euro. Mentre faceva rientro nella sua casa, all'altezza del parco dei Tigli è stato avvicinato da una persona che con una scusa lo ha fermato ed è riuscito a sottrargli i soldi che aveva riposto in tasca. L'anziano se ne è accorto quando l'uomo si era ormai allontanato e non ha potuto fare altro che recarsi dai carabinieri di Capaccio Scalo per sporgere denuncia. Si tratta dell'ennesimo episodio che ha per vittima una persona anziana.